Ben trovati con Dialoghi sulla Fed e ben trovato Padre Francesco. Allora, riprendiamo il nostro discorso, abbiamo interrotto la scorsa settimana, sempre sul credo, la professione di fede e abbiamo accennato all'importanza, alla figura di Paolo VI, che ha nel 1968 fatto questa solenne professione di fede, quasi a voler in qualche maniera creare un filo conduttore tra quello che era successo a Nicea nel Concilio e quello che era successo nel Concilio Vaticano II del 62, giusto? Come anno ci siamo? 65 finisce, sì, dipende da dove... Dall'inizio, partiamo dall'inizio. Ecco, ripercorriamo qual è stato il ruolo di questo Papa per quanto riguarda la nostra professione di fede. Diciamo che Paolo VI si trova a dover prendere in mano un concilio che non ha voluto lui perché il concilio fu indetto da Giovanni XXIII nel 62 mentre viene celebrato il concilio e muore il Papa. Quindi Paolo VI, che viene eletto Papa, decide di proseguire il concilio e lo porta a termine. Il concilio porta un rinnovamento generale della realtà della Chiesa. Sono passati diversi decenni ormai... La Chiesa aveva una situazione un po' contrastata al suo interno. Beh, queste cose ci sono più o meno sempre, nel senso che ci sono sempre quelli che poi adesso vengono detti i falchi, le colombe, i conservatori, i riformisti. Sono situazioni che diciamo all'interno della Chiesa ci sono sempre state, ci sono, ci saranno sempre. Molte cose poi anche vengono fatte con costruzioni romanzate o giornalistiche quasi scandalistiche in certe situazioni. perché poi dopo alla fine ognuno comunque ha un suo pensiero, cerca di esprimere un suo pensiero, però poi dopo nella stragrande maggioranza dei casi si vede come Quei contrasti che, o quelle differenze di visione, più o meno reali o più o meno presunte, non portano a delle fratture davvero definitive, tant'è che normalmente anche nelle elezioni degli ultimi pontefici le tempistiche sono sempre state abbastanza brevi, nonostante appunto ogni volta si è partiti con dichiarazioni abbastanza pesanti che preannunciavano a chissà cosa ma chissà quale contrasti ci fossero eccetera. Anche la storia di Giovanni XXIII viene raccontata sempre come l'elezione del Papa di transizione perché bisognava diciamo nominare il vecchiettino che non sarebbe durato più di tanto proprio perché magari le fazioni non si erano messe tanto d'accordo. Poi sarà anche così o ci saranno state anche queste cose, poi alla fine per fortuna è lo spirito di Dio che porta avanti la storia, il progetto di Dio lo porta avanti lui nonostante tutto, nonostante tutti. Giovanni XXIII, il Papa vecchietto che doveva essere quello di transizione, è quello che dà origine appunto al grande rinnovamento della Chiesa contemporanea, rinnovamento che probabilmente appunto a diverse decenni dal concilio ancora si è attuato in una minima parte. Le quattro colonne, quattro capisaldi del concilio sono le Costituzioni, la Sacro Santo Concilium sulla liturgia, la Dei Vermum sulla parola di Dio, la Lumen Gentium sulla Chiesa stessa e poi la Gaundium et Spes che riguarda il rapporto Chiesa-Mondo, ma alcune cose ancora oggi appunto forse sono in un qualche modo disattese, cioè fanno fatica ancora ad essere incarnate nella mentalità anche dei pastori e di diversi pastori all'interno appunto della Chiesa stessa. È una cosa interessante che il concilio per quanto riguarda il settore nel quale siamo noi, che è il settore delle comunicazioni, il concilio è quello che ha valorizzato con l'intermedifica il discorso delle comunicazioni sociali e quindi dei mezzi, dei mass media, l'unica giornata che il concilio indice è proprio la giornata delle comunicazioni sociali, eppure il discorso sulle comunicazioni è un discorso che è andato in un qualche modo scemando negli anni successivi, si è sempre data una relativa importanza al discorso comunicativo, molto è stato lasciato all'iniziativa dei singoli vescovi, qualcuno la vede in un modo, altri la vede in un altro, eccetera. La cosa interessante è che appunto poi ci voleva il coronavirus per riproporre la centralità della comunicazione. L'importanza della comunicazione. L'importanza della comunicazione e questa situazione di pandemia con la chiusura delle chiese in un qualche modo ha anche portato in auge non solo l'importanza delle comunicazioni, ma anche l'importanza di come e di che cosa comunicare. Perché poi ci si è improvvisati con i telefonini, con mezzi di fortuna più o meno, attraverso i social, fare messe dirette di qua di là, ma diciamo sì, in alcuni casi si è riusciti a portare il messaggio a tante persone che ne sarebbero state private in un periodo appunto di chiusura, ma in tanti altri casi si è rischiato di sminuire anche il senso del sacro, perché poi dopo alla fine bisogna anche che quando io comunico, comunico utilizzando bene gli strumenti tecnici messi a disposizione, ma che sappia anche che cosa, quindi... Che gli effetti che produce l'utilizzo di... Sì, sì, ma che ci sia un contenuto valido e che venga anche tradotto in modalità consone al mezzo che si utilizza, cioè un conto che io scrivo, un articolo di giornale, un conto che io devo parlare in televisione, un conto che devo fare un'omelia via Facebook. Quindi l'altra volta abbiamo anche accennato al... No, non ti ho risposto. Ritornando a Paolo VI. Non ti ho risposto perché mi sono perso, c'è ragione. Quindi Paolo VI di fatto è colui che conclude il concilio e quindi di fatto ripropone in maniera, come dire, più libera, tra virgolette, cioè se c'è uno degli aspetti del concilio che deve essere messo in evidenza è che per la prima volta viene convocato un concilio ecumenico, non è mai capitato nella storia, se non erro, che non ha davanti delle eresie. Cioè i concili normalmente vengono convocati all'interno della Chiesa... Ci sono delle grandi posizioni da contenere o da gestire in qualche modo, come è chiuso con Ario per contrastare delle posizioni che non suonano bene, diciamola così, perché poi dopo anche qui bisognerebbe spiegare con maggiore attenzione che cosa significa eresia, che cos'è l'eresia. Quindi diciamo normalmente appunto noi abbiamo concili pensati al concilio di Trento... L'eresia è qualcosa che non può essere accettato, giusto che è contraria? No, vabbè, allora eresia è una parola che deriva dal verbo greco aireo, aireo non è una parolaccia perché è un verbo normalissimo che dice scegliere, significa scegliere, si tradurrebbe così in italiano. L'eretico che cos'è? È uno che fa una scelta, fa una scelta che normalmente mette in evidenza alcuni aspetti che possono essere anche positivi del discorso che riguarda Dio, riguarda la fede, ma si perde altri aspetti, si li perde per strada. Prendiamo per esempio il mistero della Trinità che abbiamo cercato un po' di rivedere all'interno del credo che stiamo analizzando nella professione di fede. qual è la posizione ortodossa, cioè qual è la posizione che la Chiesa può accettare parlando di Dio? La posizione o le posizioni che la Chiesa può accettare parlando di Dio sono quelle posizioni, sono quelle teorie che cercano di mantenere insieme l'unità e l'altra unità di Dio. Quindi devono mantenere insieme il fatto che Dio sia uno solo, nonos, ma contemporaneamente, ma anche, mi viene il Veltroni di Crozza, ma anche è quello che è una Trinità, è una comunità di persone. Allora, tutte le posizioni che riescono a mantenere questi due aspetti sono posizioni che possono essere definite ortodosse, più o meno ortodosse, più o meno accettabili. Poi, normalmente, come succede sempre, quando io non ho la possibilità di spiegare in fondo o profondamente una determinata cosa. Perché? Perché qui stiamo parlando di Dio, stiamo parlando dell'infinito, stiamo parlando di una realtà che trascende la possibilità umana di pensiero, di parola, di ragione. Quindi ogni tentativo di spiegazione porta con sé dei pro e dei contro. Dicevo la volta scorsa che le due visioni della Trinità, quella greca e quella latina, hanno ognuna dei pro e ognuna dei contro. Però nel momento in cui cerco, in un qualche modo, di spiegare, cerco anche di mettere in evidenza che ci sono delle controindicazioni, un po' come succede con la medicina. Questa medicina serve per quello, però se ti leggi tutte le controindicazioni, dici, ma col cavolo che io me la prendo quella. Cioè, una volta che però io ti ho spiegato che ci sono delle controindicazioni e quindi devi stare attento a quello, la posso accettare con la teoria. Nell'eresia che cosa succede? L'eretico che cosa fa? L'eretico sceglie, sceglie una posizione e se ne dimentica un'altra. Per esempio, parlando della Trinità, l'eretico che fa? O sceglie l'unità di Dio e si perde la distinzione delle persone. Per esempio, una eresia di questo genere è l'eresia che viene chiamata modalismo, ne abbiamo anche parlato di questa cosa, cioè che in fondo dice, quell'eresia, che Dio è uno solo, che mo' appare come padre, mo' appare come figlio, mo' appare come spirito santo. È un po' come i personaggi, dicevo, dei film di Verdone, che l'attore è sempre lo stesso, che incarna diversi personaggi. Quindi è solo un modo apparente quello di presentarsi come padre, figlio e spirito santo, ma di fatto è sempre lo stesso. Quindi in questo caso, questa posizione che fa salva il monoteismo, cioè salva il fatto che Dio sia uno solo, ma si perde per strada la distinzione, perché la distinzione è solo apparente, non è reale. Questa è una posizione eretica, cioè io scelgo un lato e mi perdo l'altro. Al contrario, la posizione diario, di fatto, o la posizione subordinazionista estrema, può essere una posizione triteista. Perché? Perché la distinzione tra il padre e il figlio, per non parlare dello spirito santo, che il cario manco calcola, è talmente, diciamo, enorme questa distinzione, talmente macroscopica, che mi perdo alla fine l'unità di Dio. Cioè la distinzione è reale, talmente reale che il figlio non è più manco nella posizione di Dio, perché è una creatura, la più sublima delle creature, ma non è dal lato del creatore, non è divino, non è Dio come Dio il padre. Quindi mi sono salvaguardato la distinzione, quindi la trinità delle persone, mi sono perso l'unità, perché non c'è più possibilità di mantenere l'unità tra il padre e il figlio, e quindi manco con lo spirito santo, perché il figlio non è più sul piano del padre, cioè non è Dio come il padre. Quindi l'eresia, la posizione eretica, è una posizione che sceglie, sceglie la parte dove stare, e queste posizioni normalmente eretiche sono posizioni appunto che vengono contrastate normalmente dai padri conciliari, dei vari concili, che cercano di mantenere insieme quelle realtà che la ragione fa fatica a mantenere insieme. Tutti i concili nella storia vengono convocati per contrastare delle posizioni eretiche. Pensate per esempio al concilio di Trento, che viene, diciamo, convocato contro la riforma di Lutero, per esempio. Il concilio Vaticano II è il primo concilio della storia che non viene convocato con una posizione precisa da contrastare. Con delle posizioni così macroscopiche da contrastare. Evidenti. Quindi è un concilio ancora chiesa, per la prima volta, ha la possibilità pacatamente di riflettere sulla sua realtà, sul suo mistero, su quello che porta dentro. Non ha scopi apologetici il concilio Vaticano II, cioè di di rivalza, di... non deve ribattere nulla. Non deve contrastare in maniera precisa qualcosa o qualcuno. Sì, non deve contrastare nulla. Ha quindi la possibilità di fare una revisione, una revisione pacata sulla sua identità, sulla propria identità. E, diciamo, Paolo VI è il Papa che porta avanti, quindi termina, porta a termine l'opera iniziata da Giovanni XXIII e, di fatto, incomincia a mettere, a porre i primi passi per una nuova visione di chiesa, che esce fuori appunto dal concilio, che non deve più, per forza, essere una contrapposizione a... la chiesa non è contrapposta dal mondo, ma deve dialogare col mondo. Si pone in un'altra ottica uno dei primi atti che fa, che compie, Paolo VI è quello, dicevamo prima, di fare in modo tale che ci si abolisse, ci si elevasse le reciproche scomuniche tra la chiesa... Si trovasse un punto di incontro. Un punto di incontro tra le chiese orientali, quindi tra il patriarca di Costantinopoli, Atenagora, e la chiesa cattolica rappresentata appunto dal Papa stesso. Quindi Paolo VI è la figura che inizia ad incarnare lo spirito del concilio, uno spirito che, diciamo, a diversi decenni ancora fa fatica a penetrare nei ragionamenti, nei modi di fare, anche di tanti di noi. Che cosa impedisce che questa riforma poi effettivamente prenda piede, nonostante siano passati più di 50 anni? Ma sono le mentalità, sono le mentalità che fanno fatica a cambiare, a mutare. Cioè una persona, soprattutto le persone anziane che erano abituate. Dopo il concilio molti seminari anche si svuotano, alcuni docenti lasciano l'insegnamento, non riescono a digerire le novità che il concilio stesso porta con sé. E quindi sai, se tu non ascolti, se tu ti rinchiudi nei tuoi modi di pensare, pensi che quelli sono gli unici possibili, sono quelli giusti, quelli corretti, alla fine fai fatica. E anche se sei costretto in un qualche modo a, come dire, a predicare in un certo modo, a dire certe cose, a fare certe cose, poi alla fine le fai di lavoro. Non le senti tue, quindi non vengono neanche elaborate più di tanto. Sì, poi considera anche che il concilio comunque viene, viene celebrato e termina in un periodo ante 68 anche. È un periodo proprio rivoluzionario per eccellenza. Ma certe rivoluzioni nascono nel 68 e quindi anche qua, per esempio, ci sono delle cose che all'interno del concilio diventano discriminanti, secondo me, per esempio, nei confronti delle donne. Faccio un esempio del fatto che la Sacronosa Ante un concilium dica, che ne so, che, diciamo, se c'è una scuola cantormone nella quale sono presenti le donne, non si possa stare in presbiterio, faccio un esempio. Questa cosa qua chiaramente indica il marchio, o riflette il marchio di tempi che ormai non esistono più. Quindi ci sono anche delle cose... Servirebbe un nuovo concilio? No, forse no, ma basterebbe adeguare alcune cose, riflettere su alcune situazioni. Si fa un gran parlare, per esempio, del sacerdozio alle donne, su cui Giovanni Paolo II sembrerebbe aver dato una risposta più o meno definitiva. L'ha fatto in maniera particolare, in maniera strana, ma adesso non entro nei tecnicismi. Dopodiché il discorso si è un po' spostato sul diaconato, ma poi si è fermato. In realtà quello che però mi ha sempre, per esempio, incuriosito e un po' infastidito è il fatto che manca una riflessione sui ministeri laicali che il concilio lascia. Cioè i ministeri laicali che sono il ministero dell'elettorato, il ministero accolitato... Abbiamo già accennato quando abbiamo parlato della liturgia della parola. Perché? Perché se sono ministeri laicali, sono ministeri aperti ai laici, cioè a tutto il popolo di Dio. I laici sono maschi e femmine, così l'ha creata la natura. Poi, diciamo, non voglio entrare nella questione di genere, esco... No, non è il caso... Lasciamo proprio stare. Anche perché non siamo per le discriminazioni di alcun tipo, quindi chiunque potrebbe accedere a un ministero laicale indipendentemente da quello che è o che sente di essere. Per carità, diciamo, però dice, lì la Bibbia dice che maschi e femmine li creò, insomma mi sono fermato là e già ho problemi con due generi. Se cominciamo a moltiplicarle, arrivare a 58, non so come ha fatto quello che ha scritto il libro, non... cioè mi perdo, mi perdo dopo il terzo, sicuramente faccio fatica. Ma, diciamo, maschi e femmine li creò, quindi se il ministero è leicale, non si capisce per quale santa ragione il ministero o quei ministeri debbano essere riservati ai maschi. Questa è una delle cose, per esempio... E la Chiesa è ancora maschile. Maschilista. Non ho voluto usare un altro termine per ragioni... Poi nella pratica, però, tante cose le si superano, perché sono più le donne che vanno a leggere, faccio un esempio, che i lettori istituiti, uomini. Dopodiché non usiamo gli accoliti, dobbiamo utilizzare i ministri straordinari, che ci avranno di straordinario, non si è capito. Però lo sono, diciamo, tecnicamente. Che sono maschi e femmine. Cioè, sarebbe opportuno... Rivedere. ...su ste cose, almeno, fare una revisione seria, più aperta, e più anche pacata, cercando anche di valorizzare la laicità nella sua completezza. E sembra che ancora i tempi non siano maturi. Ritornando, invece, allo Spirito Santo. Abbiamo detto che procede dal padre al figlio, abbiamo spiegato, no? Com'è che succede, com'è che procede. E c'è una parte in cui dice, ha parlato per mezzo dei profeti. Questo Spirito Santo che parla attraverso i profeti, è un modo per stabilire che è arrivato prima del figlio di Dio? No, non è che, anche qua, non è che è arrivato prima o dopo, anche perché i termini temporali sono sempre un po' da prendere con le molle, con le pinze. Sarebbe simpatico analizzare, ci ho provato anche, o ci provo ogni tanto, in qualche omelia, dice sì, ma lo Spirito Santo, quando l'ha ricevuto la Chiesa, no? E qui pochi che hanno studiato un po' di catechismo ti dicono, come il giorno di Pentecoste, il giorno di Pentecoste, e dice, quando è il giorno di Pentecoste? Dice, 50 giorni dopo la Pasqua. C'erano i bambini che hanno studiato tutti in fogliati di questa cosa. Sono tutti presi. Dice sì, però dice, ma sì, io prendo il Vangelo di Giovanni, l'abbiamo letto proprio nella seconda domenica di Pasqua. Giovanni dice che la sera di quel giorno, prima della settimana, cioè il giorno di Pasqua, Gesù entra a porte chiuse dai discepoli, gli dice pace a voi, subito spira, soffia su di loro lo Spirito Santo. Quindi, quella sera di quello stesso giorno, cioè il dono dello Spirito, in un qualche modo, è il dono del Signore risorto. Quindi, diciamo, dopo la risurrezione, si fa fatica un po' a parlare di tempi, o a parlare del tempo, così come in realtà lo conosciamo noi. Fino alla risurrezione, va bene, Gesù vive un processo terreno, è un figlio d'uomo, come qualsiasi altro da questo punto di vista, un cucciolo d'uomo, per usare il libro della giungla. Dopodiché, però, il giorno della risurrezione, si crea una spaccatura, cioè c'è una novità che non riusciamo nemmeno a cogliere. Ed è interessante che nessuno descriva la risurrezione. Trova la descrizione della risurrezione. No, c'è solo il sepolcro vuoto, le vesti piegate. Quindi che cosa succede in quel momento? O che cosa è successo? Nessuno te lo descrive. È interessantissima questa cosa. Cioè, è una cosa che va al di là delle possibilità di comprensione. Quello che vedi sono gli effetti. E quindi qui cambiano i parametri, cambiano le tempistiche. Quindi dire prima, dopo è difficile, anche perché lo spirito è lo spirito di Dio. Il figlio è il figlio di Dio, coeterni, con il padre, detta in questo modo, con parole che anche qua hanno poco senso, perché sono sempre parole temporali. Ma sicuramente analizzando la presenza dello spirito nell'Antico Testamento, noi notiamo che soprattutto da un certo punto di vista in poi, no, non da un punto di vista, da un certo momento. Da un certo momento, sì. quindi è un momento temporale, notiamo la coppiata spirito-parola. Quindi il profeta che è ripieno dello spirito è colui il quale proferisce le parole di Dio. Profemi, da cui deriva la parola profeta, è un'espressione greca, è un'espressione che difficilmente riusciamo a tradurre in italiano, perché in italiano dovremmo ritradurre parla al posto di, il profeta è uno che parla al posto di, femmine parlare, proferire, pro al posto di. Ma non suona bene, perché non è che il profeta parla al posto di un assente, non è un ambasciatore, perché il Signore continua a rimanere presente, non è che se ne va alle guai, in ferie, o su qualche altro pianeta, insomma, per parlare alla Star Trek. Non è che è assente, solo che il profeta interpreta la realtà dal punto di vista di Dio, cerca di interpretare la realtà, di metterla a nudo, di farla vedere, dal punto di vista sotto l'ottica, sotto la luce di Dio, cioè come la vede Dio. Questo è un po' la cosa. Per questo lavoro, per questo compito, il profeta ha bisogno dello spirito, lo spirito che le illumina, lo spirito che gli dà la capacità di vedere la realtà dal punto di vista di Dio. perché lo spirito è quello che vive nella profondità di Dio, quindi conosce la realtà di Dio con una profondità tale che è capace di darti la possibilità di leggerla, di vederla, quindi di interpretarla dal punto di vista suo. E quindi c'è un momento in cui, soprattutto, diciamo, dal periodo del preesilio, dopo esilio, che il spirito e parola, e quindi profeta che pronuncia le parole di Dio, vengono in un qualche modo messi in duetto. il famosissimo, il brano del terzo Isaia che Gesù richiama in Luca 4 quando va nella sinagoga e legge, apre il rotolo del profeta Isaia che dice lo spirito del Signore su di me mi ha mandato a portare le annunze poveri. Quella, la buona novella che è il Vangelo che viene pronunciata grazie alla presenza dello spirito. E su questa lieta novella noi dobbiamo lasciarci perché il tempo a nostra disposizione è finito. Se volete potete contattarci attraverso i nostri social al numero di telefono che avete visto in sovraimpressione. Grazie. Grazie a voi della supportazione. Quello sempre. E alla prossima settimana. Grazie a tutti.